Musica Qui siamo sotto i platani, forse una delle piante più conosciute per suo utilizzo in ambiente urbano, il platano sia il platanos orientalis sia l'ibrido platanos pera cerifolia derivato all'incrocio tra orientalis, il platano nostrano e l'occidentalis e il platano americano sono largamente utilizzati, più l'ibrido che non il platanos orientalis perché in genere contraddistinto da una crescita più veloce rispetto all'orientalis. Entrambi purtroppo sono suscettibili a un flagello che ha colpito, colpisce praticamente tutta Europa che è il cancro colorato del platano che si veicola molto facilmente attraverso le ferite, attraverso anche il contatto radicale che provoca la morte della pianta e purtroppo essendo molto infetto è soggetto a una specifica legislatura che impone l'abbattimento delle piante ogni qualvolta si individui qualche esemplare malato. Purtroppo anche altre patologie che lo colpiscono e anche insetti forse perché è una pianta molto diffusa, per il resto sarebbe una pianta quasi perfetta, cresce molto velocemente, tollera sia la siccità sia soprattutto i terreni molto pesanti, molto umidi anche dove c'è sommersione, cresce appunto molto molto velocemente, riesce ad arrivare a altezze, pensate queste sono piante che hanno circa 20 anni dalla messa a dimora, quindi arrivano a altezze di 15-18 metri nel giro di 20-25 anni allargando anche la chioma quasi nella stessa misura questa bellissima chioma globosa. Sono un po' sensibili alle prime siccità estive ma poi una volta che hanno perso parte delle foglie riescono bene a tollerare anche periodi siccitosi piuttosto lunghi. Hanno una foglia come dicevo grande, ricca di peluria, in grado quindi di intercettare moltissimo il particolato sottile, questa è una proprietà fondamentale soprattutto alla luce della quantità di particolato che purtroppo è nell'atmosfera del nostro paese. Può essere utilizzato, anzi direi che il suo uso principale è come alberatura stradale, è sempre stato utilizzato, addirittura c'è un viare di platano dentro Villa Borghese che probabilmente hanno quasi 400 anni ma è stato soprattutto con l'era napoleonica, Napoleone amava moltissimo questi alberi che fu introdotto massicciamente in tutte le città d'Italia, tanto che ci sono ancora alcuni esemplari piantati a inizio 1800 o comunque diciamo circa 200 anni fa proprio di origine napoleonica. Ha una bella colorazione autunnale, perde le foglie gradualmente, questo diciamo è un vantaggio se si vuole evitare quell'intasamento delle foglie che invece è provocato da altre specie che perdono le foglie tutte insieme, quindi spesso come è stato lo scorso inverno, un inverno molto mite, addirittura si vedeva a gennaio ancora alcuni platani con le foglie ancora leggermente verdi sulla pianta o comunque con molte foglie che non erano ancora cadute. Vi accennavo prima a una serie di problematiche fitosanitarie del platano, una soprattutto in primavera è piuttosto umide, è sicuramente l'oidio che vedete ricopre le giovani foglie di questa polvere provocandone anche delle malformazioni, c'è poi l'antracnosi, la tingide del platano, un piccolo insetto, ma sicuramente però il parassita più conosciuto, il patogeno più conosciuto è il cancro colorato del platano, Ceratocistis fimbriata subspecie platani o Ceratocistis platani, che è un fungo arrivato dal Nord America che ha praticamente colpito moltissimi platani in Europa e è una malattia mortale, si trasmette facilissimamente tramite ferite, tramite i contatti radicali per cui se si incide anche con un'unghia, un platano malato e poi si incide un altro platano viene immediatamente trasmessa e purtroppo è letale ed è soggetta a una legge per il suo controllo che impone l'abbattimento il prima possibile e con tutti i dovuti accorgimenti delle piante risultate infette. Si trasmette anche tramite acqua, pensate che lungo il canale di umidì che unisce la Garonna al Mediterraneo, lungo circa 240 km, praticamente è partita da un lato ed è praticamente arrivata fino al Mediterraneo uccidendo tantissime piante, è veicolata all'acqua che veicola anche delle piccoli pezzi di legno, piccoli anche sassi che toccando le radici, toccando i tronchi dei platani durante le piene provocano piccole ferite e quindi possono fungere da via d'ingresso del fungo.